buongiorno ben ritrovati a un nuovo face to face di simply beets oggi abbiamo con noi francesco perticone assicura point la nuova realtà per noi che stiamo imparando a conoscere in questi giorni francesco la assicura point è nata nel 2019 si è proposta al mercato con un modello innovativo di brokeraggio assicurativo partendo da un piccolo paese siciliano niscemo in provincia di caltanissetta per arrivare a coprire l'intero territorio nazionale con quasi 900 collaboratori oggi raccontaci un po insomma come è nata questa iniziativa come si è sviluppata e oggi quali sono le vostre attività principali allora ti ringrazio intanto per l'opportunità dataci esattamente assicura point nasce nel 2015 quando insieme a uno dei miei soci francesco parisi abbiamo deciso di metterci insieme per scoprire il mondo assicurativo dapprima con l'offerta il reach auto che poi diciamo era insufficiente per quello che era il mercato quindi ci siamo messi all'opera con le nostre idee ambiziose di cambiare un po quello che è il mondo assicurativo e girando in lungo e largo l'italia abbiamo incontrato l'altro socio maurizio maurizio tra questo ci ha permesso di avere un'evoluzione assicurativa perché siamo riusciti a passare dall'rc auto a l'introduzione di rami danni rami vita e l'abbiamo fatto in modo innovativo di fatti siamo stati la prima società in italia ad essere totalmente digitale questo ci ha permesso di espanderci e di acquisire collaboratori di acquisire competenze e di creare sul mercato un qualcosa che fino a quel momento non c'era i collaboratori avevano una difficoltà nella preventivazione perché impiegavano troppo tempo bene abbiamo detto cerchiamo di colmare il gap e da questa da queste esigenze abbiamo cominciato a creare degli strumenti innovativi dei gestionali abbiamo cominciato a dare una formazione diversa al collaboratore cercando di starli sempre più vicino possibile quindi l'esigenza nasceva da una missione in prima battuta nostra e poi da dall'analisi dell'esigenza dei collaboratori che ci ha portato a creare un qualcosa di innovativo ci ha portato oggi ad essere una delle strutture più innovative d'italia al pari delle più grandi realtà grazie a questo vostro know how non vi rivolgete esclusivamente al collaboratore ma anche ad altri broker collaborazione assicurata assolutamente come hai detto tutto non ci rivolgiamo soltanto intermediari assicurativi ci rivolgiamo anche intermediari finanziari che utilizzano i nostri prodotti per affiancare quello che il servizio assicurativo al servizio credito ci rivolgiamo a intermediari assicurativi veri e propri ci rivolgiamo a broker ci rivolgiamo ad agenzie che sposando il nostro progetto non solo riescono a fornire un servizio maggiore ai clienti e quindi aumentare anche quelle che sono le marginalità purché anche la consulenza ma riescono a trovare all'interno di un'unica struttura tutto quello che oggi hanno di necessità dovendosi rivolgere a più strutture assicurative quindi abbiamo anche dato in questo la la facilità di trovare il servizio in unica struttura io francesco ti ringrazio per la presentazione anche sintetica della dell'azienda immagino ci sarà ci sia e ci sarà tanto altro da dire ti do appuntamento quindi a un prossimo incontro per approfondire ancora di più le vostre attività grazie 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 grazie